Il tema fondamentale di giornata riguarda invece questo caso dei magistrati che hanno sequestrato tutti i beni alla Lega. Allora io su questa vicenda trovo che i giornali, soprattutto quelli di diciamo, ma tutti i giornali sono un filino, come possiamo dire, disattenti. Si tratta di una vicenda del 2013, si tratta di una vicenda che ha visto condannati Belsito, Bossi e il figlio in primo grado. Si tratta di una vicenda che varrà 400-500 mila Euro e per quanto sia gravissima e per quanto si possano anche condannare i vertici ovviamente di un partito politico e che è giustissimo e sacrosanto se hanno distratto i fondi, l'idea che si richiede il sequestro di 48 milioni e poi questo sequestro si attui, si attui prima ancora del secondo grado e della Cassazione e si definisca sequestro preventivo provvisorio, mi indigna. Mi indigna se fosse stato nei confronti del PD, mi indigna se fosse stato nei confronti del Movimento 5 Stelle che continua a difendere quando i magistrati entrano nella vita democratica, mi indigna 100 volte se riguarda la Lega. Chiaro? Perché senza soldi la Lega non può fare la campagna elettorale, non mi sembra un paese democratico quello in cui un magistrato di fatto, anche se, ovviamente non si dice così, ma fa fuori un partito politico nella sua campagna elettorale. La trovo una cosa incredibile. E Renzi, che fa il fenomeno, il maestrino Renzi che fa il fenomeno che ho difeso tante volte, come cacchio si permette di dire avete rubato? E allora vi sequestro i soldi, avete rubato? Io trovo che sia il motivo per cui Renzi ha perso il tocco magico con questo paese. Perché Renzi è un rosicone. Non puoi dire alla Lega avete rubato, capisco, l'atteggiamento, diciamo, di ostilità politica, ma un leader, un uomo che si candida per guidare questo paese, dice, in questo caso, io penso che il mio nemico più acerrimo, più volgare, più antipatico, più lontano da me, comunque ha il diritto di combattere ad armi pari per una campagna elettorale. Non avete rubato a Salvini e la dirigenza che sa benissimo non essere quella del 2013. Detto questo, se questa è la linea che vuole fare Renzi, si troverà i suoi scherani, come sempre ha fatto, e le sue televisioni belle pulite che gli daranno ragione. Bene, avete rubato? L'ho trovato una cosa, è così, Antonio dice Renzi sciacallo, ho detto male, non rosicone. È una cosa che secondo me è fuori dal fair play della politica. Invece fuori dal fair play ci sono io nei confronti della Confindustria. Perché, vedete, la Confindustria, col suo centro prestigiosissimo, ci aveva spiegato che il pilo italiano sarebbe crollato se non fosse passato il referendum del 4 dicembre. Oggi, leggo sul Sole 24 ore, in prima pagina, stime per il 2017 del pilo in rialzo all'1,5%. Quindi non solo il pilo non è crollato, ma è molto più alto di quanto si immaginassero in Confindustria. Allora, quando sento il presidente della Confindustria Boccia dire, dobbiamo stare attenti a non fare errori, allora vi chiedo, Boccia, diglielo ai tuoi uomini del centro studio di Confindustria di non fare errori. Non alla politica, ai magistrati, ai giornalisti, ai fenomeni, ai cazzi. Cioè, qua, gli errori li avete fatti in casa vostra, se mi avete spiegato. Dobbiamo stare attenti a non fare errori. Io direi, scusate, abbiamo fatto un errore, abbiamo detto una minchiata, io ho fatto una campagna elettorale sul referendum che è stata una stupidaggine e qualche errore l'abbiamo fatti anche noi e adesso ben venga il pilo. No, dobbiamo stare, cioè, si pontifica. Caro amico Boccia, forse qualche errorino a casa tua dovresti guardarlo con attenzione. Francesco Merlo contro la Sciarelli, oggi su Repubblica, perché la Sciarelli ieri fa pessimo giornalistimo, tremendo in chi l'ha visto, sostanzialmente prende i genitori del fidanzato assassino di Noemi e gli fa il trappolone. Questo lo dice Francesco Merlo, dice che è un'opera di sciacallaggio orrenda, c'è un pezzo tremendo. Ma vedete, la Sciarelli, Francesco Merlo, non è toccabile. La ragazza, tra virgolette, di Woodcock, la donna che ha sostenuto che io non dovevo stare in Rai, la donna che può tutto, tutto, perché la Sciarelli è intoccabile, la Sciarelli è il massimo del massimo, la Sciarelli può fare quel giornalismo, a differenza di Libero, a differenza del giornale, non sarà mai uno sciacallo quando trova, non è la prima volta, un genitore in diretta gli fa vivere l'umiliazione di quello che legge a Sat con un bandello, mentre i genitori stavano lì di questo fidanzato assassino, un bandello trovato l'assassino, sostanzialmente dando la notizia in diretta davanti ai genitori. Questo è l'ordine dei giornalisti, non ci sarà mai nessuno che potrà dire una cosa. Rai 3, Rai 3, servizio pubblico, non noi di Mediaset che siamo la schifezza della televisione commerciale, Rai 3, servizio pubblico. Francesco Merlo, oggi leggetevelo perché su questo è tranchant, come lo è Vittorio Feltri, che invece viene attaccato per qualsiasi titolo, per qualsiasi, diciamo, sua posizione, che se la prende con la moglie del figlio, Annalena Benini, perché su Grazia, prima sul Libero, lo contesta, la moglie del figlio, lo contesta Feltri per i suoi indugiare di Libero su tutti i verbali dello stupro di Rimini. Insomma, è una lotta in famiglia, leggetevi oggi Feltri, vedete un po' voi se siete d'accordo o con Feltri o con la Benini. Conosco tutti, io sto zitto, buono, non metto il dito tra parenti che litigano. Io so lì, oggi Repubblica apre su quello perché non approvarlo, dice Prodi, è stato un calcolo politico sbagliatissimo per la sinistra. Vedremo se questo è vero. L'ultima cosa è l'apertura del giornale, si tengono il vitalizio. In realtà poi sono 608 nuovi parlamentari nei mille che ci sono oggi in Parlamento che da oggi in poi avranno il vitalizio nonostante siano stati per la prima volta in Parlamento. Ma attenzione, lo avranno a 65 anni e sarà da 1000 euro. Possiamo pensare che sia giusto o non ingiusto, però attenzione a come sono le cose. Vi do appuntamento domani, un po' più breve, forse riesce a rendere questa rassegna ancora più diffusa. Mi raccomando, diffondetela, leggetela e sappiate che su www.nicolaporro.it ci sono tante altre cose che vi possono interessare. Ciao!